Mi trovo a Carazei, al ristorante Il Chanton, che è veramente uno dei miei preferiti in assoluto, con Fulvio, il patron del locale, e tra poco vi presenteremo un dessert a regola d'arte. Fulvio, aspettiamo, certo, per noi è sempre un piacere, siete meravigliosi, stupendi, e veramente con delle competenze e dei talenti unici. Io questo ristorante ve lo consiglio, davvero. Grazie di cuore. Grazie.